Questa qua ancora non ce ne eravamo accorti noi avventori del porticciolo di Ognina. Hanno staccato il fanale di via di questo palo tratteggiato rosso e bianco che questo segnala la presenza di un porto. Questi fanali sono messi sui moli sull'uscita a destra dei porti. Questo segnale vuol dire che c'è un porto alle barche in uscita di andare dall'altro lato e di uscire sulla sinistra e di rientrare sulla sinistra. Questo è stato divelto, secondo me, da chi ha divelto i cartelli di vieto di balneazione per la facilizzazione dei solarium, signori miei.